Sbarcano altri 900 migranti, sono 560 quelli approdati a vivo marina, 350 quelli provenienti invece da Crotone. Disperati in fuga dalla fame e dalla guerra, tra loro donne e bambini non accompagnati, funzionano i dispositivi di accoglienza. Balniazione vietata e polemiche. Le analisi ARPA-Cale e il divieto imposto dal comune di Tropea scatenano reazioni. La situazione, secondo i rilevi dell'Agenzia, sarebbe critica anche in altre importanti aree turistiche della regione. Sacco e i voti alle primarie PD, le intercettazioni nell'indagine sul cara d'isola Caporizzuto, il voto a Gianluca Callipo per tentare di indebolire Mario Oliverio e soprattutto Enza Bruno Bossio, il sistema misericordia impegnato anche nelle regionali per Gianluca Bruno. Cardeto Sud, un paese fantasma, edifici mai assegnati e il sogno di un nuovo villaggio mai realizzato. Succede a Cardeto Sud, dove i lavori iniziano negli anni 70, non si sono mai conclusi e tutto versa nel degrado e nell'abbandono. Legittima difesa, il dibattito a opinioni, il pensiero dei calabresi sui recenti provvedimenti legislativi, al centro dell'ultima puntata del Fortunata Format di La CTV. Tra scarsa informazione, valutazioni politiche, il confronto tra la gente e tra gli attori politici in studio. Buon sabato da Tiziana Bagnato e da tutta la redazione della C. L'immigrazione in primo piano, nuovo sbarco di migranti a Vibomarina, oltre 500 a bordo di una nave che proprio in questo momento sta attraccando al porto. In collegamento abbiamo Agostino Pantano. Sì Tiziana, mi dai la linea? Proprio mentre sono in corso nel porto di Vibomarina, le operazioni di questo ennesimo sbarco. Sono arrivati proprio poco fa 560 migranti, ovviamente già in funzione della macchina organizzativa predisposta dalla prefettura. Viaggiavano a bordo della nave Aquarius, una nave battente e bandiera di Gibraltar, della ONG SOS Mediterranee, che fa parte del gruppo di medici senza frontiere e quindi è una collaborazione internazionale, Francia, Germania e Italia. I migranti arrivati ovviamente alla spicciolata stanno cominciando a scendere per ovviamente le operazioni dei primi soccorsi, coordinati come al solito dai medici del 118 dell'Asp di Vibom. Ma proprio in preparazione di questo ennesimo sbarco abbiamo sentito il responsabile del servizio 118, il dottor Antonio Talese, che ci ha spiegato qual è la preparazione per lo sbarco in corso. Prego la regia di mandare il servizio. Avete avuto comunicazione di casi particolari a bordo della nave? No, è stato un report molto dettagliato di cui si parla, soltanto sono dei numeri circa 6, 150, però casi particolari segnalati di patologie gravi no. Ci sono molti casi di scabbia, ci sono 6 gravi di cui una con la scabbia, ma soprattutto quello che questa nave trasporta sono 90 minori non accompagnati. Dottore, questo è il secondo sbarco qui a Vibbo in un mese, si aspetta lunedì prossimo un'altra operazione di questo tipo. La macchina organizzativa riesce a sopportare, a supportare operazioni di questo tipo? Sì, con grande fatica riusciamo a supportarla, anche perché come 118 dobbiamo gestire anche la normale routine, per cui le numerose attività che ci vedono impegnati è chiaro che comportano uno stress psicofisico notevole, però sono servizi che vanno fatti, l'azienda ci richiede, d'altore anche questi migranti hanno necessità di essere visitati, non vedo perché bisogna negargli il nostro supporto. C'è da dire che mano a mano che scendono i migranti, è stato confermato il dato chiarito dalla Prefettura nelle scorse ore, i migranti a bordo della nave acquario sono soprattutto di nazionalità dei paesi della fascia subsahariana, ci sono almeno 10 eritrei, mentre è stato smentito che a bordo vi siano dei siriani o dei curdi. C'è da dire che lo sbarco di oggi è in qualche modo una premessa allo sbarco di lunedì prossimo, qui dal porto di Vibo Valencia per il momento è tutto, ti restituiscono la linea tiziana. Grazie Agostino, quello avvenuto a Vibo Marina non è l'ultimo sbarco registrato questa mattina, un altro ce n'è stato infatti a Crotone, sono stati circa 350, tra cui anche donne e minori non accompagnati, quelli arrivati a bordo di una nave battente bandiera panamense. Si tratta prevalentemente di migranti di origine subsahariana, non si sono registrate particolari criticità nelle operazioni di accoglienza curate dalla prefettura di Crotone. I migranti nelle prossime 48 ore saranno trasferiti nei diversi luoghi italiani indicati dal piano di riparto del Ministero dell'Interno. E ora voltiamo decisamente pagina, parliamo di ambiente e turismo. La pubblicazione delle ultime analisi dell'ARPACAL e il divieto di balneazione in alcune aree del litorale di Tropea hanno provocato reazioni e polemiche. Il punto in questo servizio. Il mare di Tropea è vistosamente bello, ma per l'ARPACAL è in alcuni tratti inquinato. Al punto che fra mille polemiche sulla tempestività dei controlli, il Comune ha disposto un divieto di balneazione momentaneo e limitato a due sole arenili in attesa di analisi aggiuntive. Torna quindi nella bufera il Dipartimento Vibonese dell'Agenzia regionale, che rende pubblici i risultati delle proprie ispezioni a ridosso della stagione estiva. Il più bel biglietto da visita a Tropeano bloccato e il fatto non poteva non suscitare la reazione dei gestori dei Lidi. Contestiamo il fatto che l'ARPACAL sembra quasi che lo faccia a posto per Tropea, non so perché. Per ogni anno, inizio stagione, ci viene a fare i prelievi e non è che ci viene a fare qua, a 20 metri dalla battigia. No, ce li fa a 300 metri dalla battigia e quest'anno c'è stata proprio la chicca perché l'ha fatto il giorno dopo dell'alluvione, perché tutta la costa iponesa è stata colpita da una fortissima alluvione martedì notte. Mercodì che fanno? Loro si svegliano, vengono qua e ci fanno il prelievo a 300 metri al mare dove la foce sicuramente dell'Idola Grazia avrà portato giù detriti di tutti i paesi che non sono collettati con la rete fognare che scaricano nella vallata dell'Idola Grazia riempiendosi dalle acque piovare, sicuramente avranno portato detriti giù in mare che hanno alterato i rilievi. Mare pulito e gente comunque in spiaggia e mentre si attendono le nuove analisi c'è chi nella capitale calabrese del turismo contesta in modo improprio il comune strappando l'ordinanza affissa nel sito solito della piazza. Agostino Pantano per la Cineus 24. Restiamo in tema perché le recenti analisi dell'ARPACAL non hanno risparmiato neppure altri centri turistici calabresi importanti, tra questi anche alcune località tra le più rinomate al mondo. Stessa spiaggia stesso mare, sporco. La Calabria mantiene fede al premato raggiunto in alcune località marittime per le acque decisamente sozze. Dalla collana dei nostri mari sono state sfilate altre perle, non solo tropea e ricadi. L'ARPACAL anche quest'anno torna sulla scena e ci fornisce cattive notizie a causa degli esiti sfavorevoli per la balneazione. Nella provincia cosentina Rossano non promette nulla di buono. Dalle analisi effettuate su diversi campioni di acqua di mare prelevate dal torrente Cino Piccolo sono stati superati i valori del parametro di Escherichia-Coli rispetto a quell'imposto dalla normativa. Stessa sorte a Fuscaldo, a pochi metri dal torrente Maddalena. Nella Blacklist anche Nicotera, tanto apprezzata negli anni per il mare Cristallino e la bella spiaggia. Scendendo fino alla punta dello stivale, bagnata dal mare Ionio, sorge merito portosalvo, che non se la passa meglio con risultati altrettanto negativi. E pensare che la località, lo scorso anno, godeva delle quattro vele nella guida blu di Legambiente e Touring Club, che avevano stilato la classifica del meglio del mare e dei laghi italiani. Rosaria Giovannone per la CNews24. Cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Arriva l'atteso provvedimento del governo che, negli auspici, dovrebbe spalancare le porte al processo di stabilizzazione di circa 5.000 precari calabresi. Una svolta per il futuro dei 5.000 precari calabresi. Almeno questa è la speranza, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, degli ultimi decreti di attuazione della riforma della pubblica amministrazione, targata Marianna Maria. Il governo ha infatti approvato quello che può considerarsi un vero e proprio piano di stabilizzazione, che coinvolgerà quanti hanno lavorato da almeno tre anni degli ultimi otto, alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, anche diverse tra loro. Il requisito dei tre anni potrà essere maturato entro il 31 dicembre 2017. L'assunzione sarà diretta per chi ha già superato un concorso e è possibile anche in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. Gli altri dovranno partecipare ai bandi, potendo però contare su una riserva della metà dei posti messi a concorso. Superiamo il precariato e il cattivo reclutamento ereditato, ha ribadito la ministra Marianna Maria. Il provvedimento, varato dal Consiglio dei Ministri, ha poi provocato reazioni assai positive anche in Calabria. La deputata del PD Enza, Bruno Bossio, si dice certa che la decisione assunta prefigura una più sicura prospettiva di vita per circa 5.000 famiglie calabresi. Nel provvedimento approvato, ha spiegato la Bossio, viene riconosciuto anche ai lavoratori ex LSU e LPU della Calabria il diritto di poter transitare da una condizione di precarietà permanente ad una stabilizzazione definitiva. Il PD, per come annunciato dalla stessa parlamentare, avverà da subito il confronto con i lavoratori, per verificare nel dettaglio le modalità di attuazione della norma. Riccardo Tripepi per la CNews24. Voltiamo pagina, torniamo ad occuparci dell'inchiesta Johnny che si è abbattuta sul cara di Isola Caporizzuto. Le intercettazioni svelano gli interessi del sistema di potere attorno alla confraternita misericordia e le indicazioni di voto per le primarie 2014 del Partito Democratico. Mettiti al telefono e convoca uno per uno i nostri. Domenica devono andare a votare alle primarie, che se va Oliverio ce lo giochiamo il campo, perché Oliverio è quella Bruno Bossio. Leonardo Sacco, il RAS crotonese dell'accoglienza, il governatore della misericordia fulcro del sistema di malaffare scoperchiato dall'inchiesta della procura antimafia di Catanzaro, votò e fece votare alle primarie del Partito Democratico 2014. Votò e fece votare Gianluca Callipo, ma più che un voto per, fu un voto contro. Neppure contro Mario Oliverio, ma contro la parlamentare demmi in commissione antimafia, Enza Bruno Bossio, che sul cara di Isola Certe Cose, forse non ascoltata abbastanza, le denunciava da anni. E ci sono fiumi di intercettazioni che il ROS di Catanzaro ha acquisito nel contesto della sua formidabile attività investigativa, che ha consentito al procuratore aggiunto Vincenzo Luberto e PM Domenico Guarascio e Vincenzo Capomolla di chiudere il cerchio. Cruciali, ad esempio, alcune captazioni, come svela oggi il Quotidiano del Sud, con Fabiola Marrelli, poi nominata direttore con delega alle finanze del cara e con un indagato poi finito agli arresti, Domenico Tipaldi. Un fiume di intercettazioni, quelli agli atti delle indagini, che mostrano il legame a doppio filo del sistema misericordia con la politica, come nel 2014, quando si spese per Gianluca Bruno, attuale sindaco di Isola Caporizzuto, candidato alle regionali tra le file di Forza Italia. Da Crotone per la Cineus 24. Restiamo ancora in tema di cronaca giudiziaria. Assolto l'ex governatore Chiara Vallotti, prescritti i reati contestati all'ex assessore regionale Basile. Naufraga così l'ultimo stralcio del procedimento Poseidone, istruito a suo tempo da Luigi De Magistris. A 12 anni dalla bufera giudiziaria che segnò l'opice della popolarità di Luigi De Magistris, anche l'ultimo stralcio dell'inchiesta Poseidone frana. Era l'indagine che mirava a far luce su un presunto comitato d'affari che avrebbe divorato il fiume di denaro pubblico investito per la depurazione in Calabria. Una depurazione che fa ancora acqua da tutte le parti. Accusato di associazione per delinque era anche l'ex presidente della regione Giuseppe Chiara Vallotti, assolto assieme all'ingegnere Antonio Caliò, perché il fatto non sussiste. Eppure la stessa procura di Catanzaro aveva insistito fino alla fine del primo grado per la condanna di Chiara Vallotti a tre anni e sei mesi di reclusione. Il naufragio l'ennesimo di uno dei procedimenti avviati da De Magistris, e laddove l'istruttoria si è rivelata inconsistente per provare la colpevolezza degli imputati, ci hanno pensato la lentezza della giustizia e la prescrizione dei reati a segnare il silente epilogo di una stagione mediatico-giudiziaria che ha decretto perfino la caduta di un governo. Prescritte, ad esempio, le contestazioni di abuso d'ufficio proprio in quest'ultimo stralcio di Poseidone a carico dell'ex assessore regionale all'ambiente Domenico Antonio Basile e dell'ex commissario dell'ARPA che ha il Bruno Barbera. Così la giustizia nega il verdetto all'imprenditore Pippo Callipo, bersaglio di controlli pianificati a tavolino, questa la tesi dell'accusa per aver usato criticare sulla stampa l'aggiunta regionale del tempo. Da Catanzaro, per la Cineus24. Spostiamoci adesso a Rosarno, duro colpo all'impero economico della cosca Cacciola. Sigilli sono stati sottoposti a posti ad aziende, immobili e valori bancari di proprietà di Gregorio Cacciola, indicato come uno degli aguzzini di una testimone di giustizia. E' di 2 milioni di euro il valore del sequestro di beni eseguito oggi dai carabinieri del ROS su disposizione della DDA di Reggio Calabria nei confronti di Gregorio Cacciola, esponente di spicco della cosca di Rosarno. Nell'elenco figurano un'azienda agricola formalmente intestata, la moglie Tiziana Consiglio e 15 immobili fra cui una lussuosa villa di 11 vani. Gregorio Cacciola è il fratello di Antonio, morto suicida nel 2005, marito della testimone di giustizia Giusi Multari. Proprio con l'accusa di sequestro di persone e riduzione in schiavitù nei confronti della giovane, nel 2014 Cacciola fu arrestato dai carabinieri. Emerse una storia orribile di sopraffazione e continue vessazioni da parte della famiglia nei riguardi di Giusi. A lei fu addebitato il suicidio del marito. Le venne impedito di uscire senza autorizzazione di suoceri o cognati, continue le minacce di morte, così come quelle di non rivedere più le figlie. La donna era segregata in casa, chiusa a chiave senza più forza per poter reagire. Tentò anche il suicidio Giusi, ma venne salvata da suo fratello Angelo che poche ore dopo scomparve nel nulla. Poi la svolta, la lettera inviata ai carabinieri nel 2006 e la lenta fine di quell'incubo iniziato per amore. Giusi ce l'ha fatta a liberarsi dalla morsa dei Cacciola, diversamente da Maria Concetta, che dalle angherie di quella famiglia andranghetista fu stritolata fino alla morte. Consolato Minniti per la Cineus 24. Voltiamo decisamente pagina, andiamo nel Regino. Edifici mai assegnati e il sogno di un nuovo villaggio mai realizzato succede a Cardeto Sud, dove i lavori iniziati negli anni 70 non si sono mai conclusi e tutto versa nel degrado e nell'abbandono. Ad accoglierci ci sono solo queste pecore che ci vengono incontro infastidite per esserci avvicinati troppo al luogo dove pascolano. Tutto normale se non fosse che laddove oggi c'è solo un pastore con il suo gregge sarebbe dovuto sorgere un nuovo paese. Le immagini parlano da sole. Entriamo in case mai assegnate che versano nell'incuria e nell'abbandono. Forte odore di muffa e degrado. Questa invece è la scuola che avrebbe dovuto accogliere i bambini del paese. Andiamo indietro di qualche anno, esattamente agli anni 70. Cardeto, un piccolo paese di poco meno di 2000 anime a una ventina di chilometri da Reggio Calabria, viene danneggiato dal dissesto idrogeologico. Nel 78 un concorso nazionale mette a bando la progettazione di due nuovi insediamenti, Cardeto Nord e Cardeto Sud. Lavori mai conclusi per un contenzioso infinito. Nel 97 la prefettura ha dammandato a due dipartimenti dell'Università Mediterranea di costruire un piccolo villaggio. Strutture mai completate che diventano l'ennesima pagina buia dei centri storici calabresi. Dominella Trunfio per la Cineus 24. Un luogo di culto diroccato conteso tra un imprenditore straniero che vorrebbe farne un centro d'arte internazionale e il comune. Finisce al Consiglio di Stato la vicenda della piccola chiesa del Rosario a Cleto. Ha scelto di organizzare un incontro pubblico per presentarsi alla gente di quel borgo suggestivo ormai quasi spopolato in cui lui, imprenditore olandese, aveva acquistato una piccola chiesa di roccata, quella del Rosario, per farne un centro d'arte internazionale. Un progetto d'avanguardia rimasto un sogno per Van Holwerf che si è visto espropriare la chiesa dal comune che di dare un proprio bene ad uno straniero non aveva nessuna intenzione, anche se l'edificio religioso stava crollando. Ma andiamo con ordine. Nel 2015 Van Holwerf acquistò la piccola chiesa del Rosario a vendergliela e la parrocchia di Santa Maria Santissima Assunta che non tiene conto del fatto che il comune aveva ottenuto un finanziamento di fondi porre per mettere in sicurezza l'edificio. Nel 2016 il Consiglio Comunale dichiara di pubblica utilità la chiesa e la espropria all'olandese che si rivolge al TAR che annulla il provvedimento. Si attende ora il pronunciamento del Consiglio di Stato. Intanto l'olandese ha pensato di incontrare la popolazione, di esporre le sue idee, di spiegare la sua visione del borgo. Non a caso ha scelto come legale l'ambientalista e scrittore Francesco Bevilacqua. Non è uno straniero che viene sia propria di una parte del paese e lo gestisce per fini suoi. È uno straniero che vuole che sia innamorato di Cleto ma anche della gente di Cleto e vuole fare insieme alla gente di Cleto. Presenta l'incontro anche l'editore Florindo Rubettino. Credo che se questa cosa funzionasse potrebbe diventare un modello, un paradigma da esportare anche in altri luoghi della Calabria che per fortuna è ricca di posti e di luoghi così straordinari. Tiziana Bagnato per la CNews24 Ottimi riscontri ha avuto l'ultima puntata di Opinioni, il fortunato format di la CTV che nella serata di ieri ha dato spazio al pensiero dei calabresi sugli ultimi provvedimenti legislativi in materia di legittima difesa. Vediamo come è andata in questo servizio. Se viene di giorno non lo posso ammazzare. Sono favorevole alla proposta di legge però penso che sia un discorso che non debba essere rivolto soltanto alle ore notturne. Si discute sul discorso come intervenire, vedere se è in una maniera o in un'altra, però in quei momenti realmente è difficile. Ma avere una legge solo che dura fascia oraria è una stupidaggia. Una libertà di difesa che non può avere fascia oraria. La confusione è tanta ed è emersa anche durante la puntata del format Opinioni. L'agente calabrese anche per colpa di una cattiva informazione ritiene che al baglio del Parlamento ci sia un disegno di legge sulla legittima difesa che permette di difendersi solo di notte. In realtà non è proprio così. Dispiace che sia passato il messaggio che questa riforma, anziché estendere il diritto di difesa, lo abbia ristretto alle ore notturne. Non è così. Difendetevi sempre, di pomeriggio, di mattina, di notte, perché la legge ne lo consente. Se viene qualcuno in casa e vi minaccia, è attenta alla vostra vita, difendetevi a qualsiasi ora del giorno perché già oggi è così e sarà così anche se passerà questa riforma. È solo una specificazione. Esatto. È una presunzione che può utilizzare il giudice per aiutarlo a concedere la legittima difesa. L'unica novità degna di nota per i poveri malcapitati che da vittime dovranno affrontare un processo prima di vedersi riconosciuti la legittima difesa è che non dovranno sborsare neppure un euro per le spese processuali e gli onorari, di cui si farà carico lo Stato. Erika Cunzolo per la Cineus24 Parliamo adesso di fede ma anche di arte, quella di una dei maggiori artigiani calabresi, la Calabria e la Polonia, unite dai diademi del maestro orafo crotonese Michele Affidato. Un gemellaggio nato quasi per caso, quello tra i santuari di Capocolonna e quello della città polacca di Cestocova che è stato sottoscritto nel corso di una solenne celebrazione in piazza Duomo a Crotone durante la quale sono stati consegnati i diademi realizzati dal maestro orafo crotonese Michele Affidato ai padri paolini di Polonia che glieli hanno commissionati per l'incoronazione di Maria di Cestocova che avrà luogo a luglio. Nel 2015 veniamo contattati dal priore del santuario di Cestocova che mi invita a presentare un bozzetto. Per sei mesi non abbiamo avuto nessuna risposta e poi arriva questa conferma che Jasnagora commissionava i nuovi diademi della Madonna per questo evento storico per la Polonia a Michele Affidato. Questo è un evento che anche il Parlamento polacco ha riconosciuto come anno della Madonna, regina della Polonia perché per me è stata una grandissima emozione e consapevole di questo grande incarico l'ho voluto proporme alla chiesa crotonese, alla chiesa polacca al fine di attivare un gemellaggio perché capivo l'importanza di questo evento e non volevo solamente viverlo sotto il lato d'arte ma anche spirituale. Le due madonne nere insieme possono unire due popoli che sono due grandi popoli come quello polacco e quello italiano e in questo momento significa per la città di Crotone aprirsi, aprirsi al mondo e far parlare bene di sé. L'opera che ha compiuto il maestro Michele Affidato è riuscito con questo ad aprire anche il canale amministrativo perché è partito anche un'azione amministrativa per il gemellaggio tra la città di Crotone e la città di Cestocova. Rossella Galati per la CNews24. In chiusura allo sport che oggi si coniuga anche con la cronaca giudiziaria. Parliamo del processo contrattopoli sentito al Tribunale di Catanzaro il Presidente del Catanzaro, appunto Giuseppe Cosentino, sull'esposto che lui stesso aveva presentato nel 2012. È andata bene, doveva essere sentito il Presidente Giuseppe Cosentino, Presidente del Catanzaro, per chiarire alcuni punti in merito a quello che all'epoca abbiamo denunciato presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, ossia che il Catanzaro attuale non aveva conoscenza di quei contratti oggetto adesso del procedimento in corso presso il Tribunale. L'Avvocato Sabrina Rondinelli, legale della società sportiva Catanzaro Calcio, commenta così l'udienza del processo contrattopoli sul fallimento della società FC Catanzaro e la richiesta di alcuni ex tesserati giallorossi su un presunto credito avanzato nei confronti della nuova gestione, e quindi del Presidente Giuseppe Cosentino, che ha testimoniato come parte offesa e ha spiegato il perché dell'esposto da lui presentato nel 2012. Noi quando il Presidente ha comprato il Catanzaro il debito era stato accertato da un curatore. A un certo momento, dopo un anno, sono stati presentati queste richieste di pagamento che sia il curatore che la Lega hanno ritenuto non validi. Quindi Catanzaro ha presentato gli esposti in merito a quelle valutazioni che abbiamo fatto opportune. Ma questa vicenda sicuramente ha segnato la gestione del Presidente Cosentino perché è chiaro, nel momento in cui arrivano delle richieste di pagamento assurde perché in quel momento l'FC Catanzaro non si poteva permettere neanche i palloni e quindi vedere contratti di 90.000 euro o di importi elevati, abbiamo ritenuto di fare un esposto. Abbiamo fiducia sicuramente nella magistratura e crediamo che il Tribunale farà le sue opportune valutazioni. Rossella Galati per la CNews24 Con lo sport termina questa edizione della CNews24. Grazie per averci preferito e buon proseguimento di serata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. Grazie per aver guardato il sito www.lacnews24.it Grazie per aver guardato il sito www.lacnews24.it